Spara due colpi di pistola contro un vicino di casa, al culmine di una lite scoppiata per futili motivi, un pensionato di San Cassiano di Controne a Bani di Lucca ha ferito un uomo ad una mano. Alla Croce Verde un ambulatorio per i rifugiati ucraini presentato e il servizio in collaborazione con l'azienda USL Toscana Nord Ovest è tenuto da sette medici volontari. La festa della polizia al Real Collegio, celebrazioni in tono composto per la ricorrenza della Fondazione della Polizia di Stato. Ecco la nuova Reset Group di Davide Lippi, presentata al Marco Polo Sport Center di Viareggio, la nuova realtà che si occuperà non solo di calciatori ma anche degli atleti di altri sport. Ben trovati a questa edizione del TG Noi, l'avete sentito anche dai nostri titoli di apertura. In primo piano la cronaca, un anziano spara un uomo offerendolo a una mano. I carabinieri sono intervenuti nel pomeriggio a San Cassiano, frazione del comune di Bani di Lucca, dove appunto un anziano ha sparato ad un vicino. I carabinieri sono stati avvisati da un vigile urbano fuori servizio che ha assistito alla scena. Sono intervenuti a San Cassiano di Controne, frazione del comune di Bani di Lucca, dove l'anziano ha sparato ad un vicino. L'uomo di 84 anni ha esploso due colpi con una pistola calibro 22, con uno dei quali ha accentato l'altro pensionato di 74 anni ad una mano. All'arrivo dei militari, l'anziano, che risulta in regola con il permesso di detenzione di armi, si è subito calmato e mentre arrivava l'ambulanza la situazione è tornata sotto il controllo dei carabinieri. Sono in corso accertamenti su quanto accaduto e il ferito non corre pericolo di vita. Cambiamo pagina, ha aperto un ambulatorio medico gratuito per i rifugiati dall'Ucraina. Una bella pagina di solidarietà nei confronti del popolo ucraino scritta dalla Croce Verde di Lucca. Nella sede dell'associazione è stato presentato l'ambulatorio medico gratuito per persone provenienti dalle zone colpite dal conflitto. A illustrare l'iniziativa il presidente della Croce Verde Daniele Massimo Borella, il direttore di medicina di comunità dell'Asda Toscana Nord Ovest Marco Farnè e i sette medici volontari che si sono resi protagonisti di questa nuova avventura. Oggi apriamo un ambulatorio medico dedicato a loro. Interamente il servizio viene svolto da medici volontari. La maggior parte di questi sono ex medici di famiglia perché dire ex medici non è giusto. Sono medici di famiglia in pensione che sono amici della Croce Verde di Lucca e hanno veramente con entusiasmo sposato questo nuovo servizio che ci tengo a precisare è stato ideato e promosso da medici e in particolar modo voglio citare il qui presente il dottor Alessandro Romboli e il dottor Michele Carmassi che è anche il nostro responsabile sanitario. Nelle scorse settimane per aiutare la popolazione ucraina colpita dal conflitto la Croce Verde di Lucca aveva già inviato un'ambulanza oltre ad aver dato vita a una raccolta di fondi e materiale di prima necessità in collaborazione con Hauser Lucca, Colors for Peace e RFK Human Rights Italia. Il diabete di un profugo o l'ipertensione di un profugo non è uguale a un'ipertensione nostra, a un diabete nostro, la gestione è completamente diversa. Quindi il poter dare un punto di incontro, un punto di approccio voglio dire a queste persone dove ci siano persone disposte ad ascoltarli e in qualche maniera disposte a prenderli per mano e a compararli nella nuova via che le porterà a poter gestire meglio la loro salute è sicuramente un dato estremamente importante. In occasione delle celebrazioni per il centosettantesimo anniversario della Polizia di Stato il questore di Lucca, Alessandra Faranda Cordella, fa il punto ai nostri microfoni sul servizio reso alla collettività. Un entusiasmo che abbiamo finalmente a ritrovarci, a celebrare insieme con la dovuta sobrietà perché il momento è grave e difficile, però per noi è respirare, quindi è importante per noi non solo lavorare con le persone e per le persone ma anche trovare dei momenti comunitari in cui ci sentiamo davvero questa volta le persone vicino. La missione della Polizia è la sicurezza delle persone sia sotto il profilo del soccorso pubblico perché non ce lo dimentichiamo che siamo stati presenti anche spesso nei momenti di difficoltà della nostra nazione e tutti i giorni è assicurare con le nostre macchine che vedete in divisa ma anche con il nostro personale in borghese che fa repressione, ci siamo, ma soprattutto vogliamo far parte di questa comunità con tante iniziative che ci rendano anche parte di un sistema perché lo dico sempre, la sicurezza non è solo una cosa che concerne le forze di polizia ma coinvolge tutti, le istituzioni e soprattutto le persone che anche con le loro scelte possono fare tanto. Sospeso il pagamento del suolo pubblico per le concessioni in corso lo ha deciso l'amministrazione comunale prevedendo due scadenze, la prima fino al 31 luglio per gli esercizi di somministrazione come bar e ristoranti la seconda fino al 30 settembre per gli ambulanti. Il provvedimento è il risultato di un confronto con le associazioni di categoria e servirà ad alleggerire gli impegni economici a carico degli esercenti in corrispondenza con l'avvio della stagione turistica. Per tutte le concessioni sarà inoltre possibile rateizzare la somma fino ad un massimo di 12 rate. Veniamo adesso agli aggiornamenti riguardo all'andamento della pandemia. Leggiamo assieme i dati relativi alle ultime 24 ore facendo riferimento come sempre alla nostra grafica. Sono 5478 i nuovi positivi in Toscana. L'età media è di 42 anni. Il tasso di positività è al 15,5%. 845 pazienti ricoverati nei posti letto covid, 5 in più rispetto a ieri. 38 quelli in terapia intensiva, 3 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Si registrano 8 decessi con un'età media di 76,5 anni. Il dato provinciale sono 541 i nuovi positivi nella nostra provincia. Tornano in funzione gli antichi telai dell'ex ospedale psichiatrico di Maggiano. Gli antichi telai in legno dell'ex ospedale psichiatrico di Maggiano tornano in funzione grazie alla cooperativa La Tela di Penelope. Il laboratorio che ha appena aperto la propria sede in via Sant'Andrea, in centro storico, è frutto della collaborazione tra il servizio di salute mentale della USL e l'associazione Archimede. E oggi, come in passato, coinvolge nella tessitura artigianale persone con disagio mentale. Noi si lavora con ragazzi della salute mentale. Sono circa una decina di ragazzi, tra ragazzi e ragazze volontari. E portano avanti questo lavoro con i telai dell'ospedale psichiatrico di Maggiano. L'attività pratica di lavorazione dei tessuti, grazie a questo progetto, diviene così opportunità per acquisire competenze professionali e costruire relazioni, stimolare la creatività e sviluppare capacità organizzative. Una vera e propria terapia del fare, che attraverso l'esercizio manuale consente di rafforzare l'autostima e migliorare l'autonomia nella gestione e organizzazione dello spazio di vita. L'obiettivo era proprio quello di integrare le persone nel loro contesto di vita, sensibilizzare la cittadinanza, al fine di far sì che anche lo stigma verso queste persone diminuisse. In linea con l'antica tradizione dell'orditura lucchese, il laboratorio lavora a mano fili di seta, lino, cotone, lana e canapa per confezionare sciarpe, borse e piccoli manufatti per la casa. E nell'ambito del movimento che si è creato attorno al disegno di legge per modificare la Costituzione, la città ha ospitato un convegno dedicato alla petizione. Riparte da Lucca l'appello per sostenere il disegno di legge che prevede l'inserimento del valore sport nella nostra Costituzione. Una sollecitazione ribadita con un convegno nella sala del trono di Palazzo Ducale dove istituzioni locali, amministratori, rappresentanti del mondo sportivo nazionale e locale, della scuola, dell'associazionismo, si sono confrontati su quanto già approvato dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato. Un'occasione per allargare il raggio della discussione anche ad altri aspetti che riguardano poi più in generale il mondo dello sport. Il 6 dicembre a Roma, ha spiegato Renzo Marcennò, tra i principali promotori del convegno, è stato illustrato il disegno di modifica costituzionale, il cui obiettivo è inserire la parola sport tra i principi fondamentali della Costituzione italiana, affinché le attività sportive vengano promosse dallo Stato. Tra i primi firmatari, anche il presidente del CONI Malagò. L'obiettivo, quello di aggiungere tra i primi 12 articoli della Costituzione un testo nel quale parole importanti come cultura e ricerca vengano affiancate dalla parola sport nell'accezione più ampia del termine. E nel calendario delle manifestazioni dedicate alla festa dell'8 marzo, Giulia Perelli ha presentato all'Auditorium San Romano una performance dedicata a Maria Eletta Martini. Nell'ambito delle iniziative del Comune di Lucca legate alla giornata internazionale della donna, all'Auditorium di San Romano è andata in scena M.E., performance liberamente ispirata alla figura di Maria Eletta Martini. Con il testo, la regia e l'interpretazione di Giulia Perelli e le musiche di Piero Perelli, alla realizzazione hanno collaborato i ragazzi della Quinta D dell'Istituto Giorgi. Nel vasto programma che in queste settimane ha visto l'intitolazione delle rotatorie lucchesi ad otto madri costituenti, si aggiunge questo appuntamento dedicato a Maria Eletta Martini che non fece parte dell'Assemblea Costituente perché troppo giovane ma che dedicò tutta la vita alle istituzioni, tanto da meritarsi il titolo di madre della Repubblica. L'evento è stato curato dall'Associazione La Città delle Donne e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ed inserito nel calendario dal titolo attorno all'8 marzo. Torna all'iniziativa di Sistema Ambiente per le pulizie di primavera. Con la bella stagione tornano le pulizie di primavera, iniziativa organizzata da Sistema Ambiente con la collaborazione del Comune di Lucca per permettere ai cittadini di liberarsi dei rifiuti ingombranti senza doverli portare alle stazioni ecologiche e senza dover prenotare il ritiro a domicilio, un appuntamento molto atteso che nelle precedenti edizioni ha ottenuto un grande successo. Il tour delle pulizie di primavera andrà avanti fino al 13 maggio, toccando tutto il territorio comunale di Lucca. Sarà possibile conferire carta e cartone, vetro, plastica, metallo, legno, imballaggi, abbigliamento ed oli vegetali esausti. Inoltre si possono portare rifiuti ingombranti, grandi elettrodomestici come frigoriferi, lavatrici, congelatori e lavastoviglie, apparecchiature elettriche ed elettroniche, medicinali scaduti, pile, batterie e cartucce di toner esauste. Ai punti di raccolta saranno presenti un mezzo di Sistema Ambiente e un operatore che raccoglierà i materiali conferiti. Per facilitare l'operazione è importante che i rifiuti siano già divisi per tipologia e non siano racchiusi in sacchi neri. Non possono essere conferiti invece vernici e barattoli contaminati oltre ai rifiuti pericolosi. Calendari e punti di raccolta sono a disposizione sul sito sistemaambientelucca.it Questo servizio l'anno scorso ha subito uno stop dovuto alla pandemia, ovviamente Covid-19, ma quest'anno è ripartito in grande slancio come negli anni passati, registrando un numero molto elevato di date che hanno coperto praticamente quasi tutto il territorio del Comune di Lucca o comunque le zone un pochino più lontane rispetto ai centri di raccolta che il Sistema Ambiente ha collocato nel territorio comunale. E andiamo adesso in Garfagnana dove la Polizia Locale si è dotata di due nuovi mezzi 4x4. Due mezzi a basso tasso di inquinamento per la Polizia Locale della Garfagnana. Alla presenza di tutti i sindaci si è tenuta al Centro Operativo Intercomunale di Protezione Civile dell'Unione Comuni Garfagnana la presentazione di due nuove auto a disposizione della Polizia Locale che svolge servizio in tutti i comuni dell'area. Si tratta di due Suzuki Vitara 4x4 ibride che sulla base delle più recenti esperienze di emergenza climatica e sociosanitaria saranno particolarmente utili proprio per la particolare versatilità dell'auto e potranno operare in ogni condizione stradale e meteorologica. Saranno quindi in grado di raggiungere ogni luogo della Garfagnana guardando anche al Green. Si, si rafforza il servizio di Polizia Locale che in questi anni ha sperimentato un coordinamento con tutti i comuni è un servizio associato importantissimo molto innovativo si è rafforzato anche in termini di uomini e ora passiamo ai mezzi mezzi ibridi e di innovazione anche da un punto di vista ecologico. Dopo la benedizione di Monsignor Angelo Pioli il taglio del nastro è l'occasione per far conoscere i nuovi agenti in servizio e presentare il bilancio annuale delle attività. Nel 2021, nonostante la pandemia sono state rilevate 1110 inflazioni al codice della strada 35 abusi edilizi 50 verifiche ambientali 730 accertamenti di residenza oltre 500 persone controllate ed una stretta collaborazione con le altre forze di polizia. In Garfagnana ci sono più di 220 frazioni che raggiungerle a volte è difficoltoso. Questi veicoli ci metteranno nella condizione di arrivare con qualsiasi tempo e con qualsiasi strada possibile. Quindi è un grazie all'Unione e un grazie ai sindaci che ci dotano sempre di strumenti e mezzi all'avanguardia per svolgere meglio il nostro servizio. Un ultimo avviso questa sera appuntamento con una nuova puntata di Carpe Diem alle 21. Si parlerà di giovani e di un fenomeno in crescita la dipendenza da droghe e da alcol. Ospiti il dottor Guido Intaschi responsabile del CERD della Versilia lo psichiatra Paolo Crepe e lo storico Giordano Bruno Guerri. Chiudiamo così la prima parte del nostro telegiornale qualche istante di pausa e poi la nostra pagina sportiva. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.